No, sono stato fortunato, ero lì a provare a rompere le scatole al portiere e la palla è arrivata lì, penso che non so se fosse data dentro comunque, è andata bene. Tu l'hai presa con una parte non nobile del corpo? No, l'ho presa di fianco. Da quelle parti lì comunque? Sì, esatto, no, un po' più in su dai. Sì, ho provato ovviamente con caratteristiche diverse di curso perché comunque siamo due giocatori totalmente diversi, lui è più tecnico e tutto quanto, però ho provato a mettere in difficoltà Euro difesa assieme a Giacomelli e Arma e penso che ci siamo riusciti anche perché comunque siamo partiti male nel senso che abbiamo preso il gol subito e quindi non è mai facile recuperare. È ovvio che prendere il gol dopo un minuto non è mai facile, siamo stati bravi a rimanere lì, a giocare la palla soprattutto perché comunque abbiamo iniziato a giocare la palla subito, palla a terra, non lanciando la palla su ed è andata bene insomma. Come ho detto anche all'inizio dell'anno abbiamo la fortuna di avere questo mister comunque già dall'anno scorso e sappiamo che seguendolo arriveremo ai risultati perché comunque lui vuole un gioco che noi attaccando l'avversario alto riusciamo a recuperare tanti palloni, capite? E quindi questo ci porta anche ad avere una concretezza, poi ci ottoporta anche le prime partite che abbiamo fatto, secondo me abbiamo giocato anche molto bene, però non abbiamo concretizzato. Oggi magari possiamo anche aver giocato un pelo meno bene delle prime partite, però abbiamo concretizzato.